Hola ciurma, oggi andrò ad utilizzare diversi comandi, diverse cose strane su minecraft per trollare i miei fan nel bedwars del mio server minecraft Vi ricordo che il mio server minecraft è pubblico per tutti, sono tantissime modalità, questo qui è l'IP sia per java che per bedrock Va benissimo, qualsiasi versione di minecraft e niente raro insomma, divertiti vi aspetto oggi pomeriggio che farò altre bedwars insieme a voi Ah e naturalmente lasciate like e fatemi sapere se volete altri video simili Ciurma, iniziamo, iniziamo, ok? La trova latina, si inizia, allora per iniziare cosa possiamo fare raga? Perché per iniziare possiamo divarci roba, metterci in creative, bardare con l'ossidiana o con direttamente la, come si chiama, come si chiama, la bedrock Ma io ciurma inizierei con questo, uno stick con knockback 20 Ora ragazzi non so se funzionerà o meno, spero di sì Andiamo ragazzi, senza paura No Vai via Via di qua Ok Ok Fermi tutti Dobbiamo fare una cosa allora Perfetto Mangia, mangia Questo è il mio letto Via No Raga È troppo bello Allora ho bisogno di blocchi Allora, eh vabbè ma che fai, scusa Tutto a posto, ho shoppato, ho shoppato, ho shoppato No, 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 prendi, è tu, è tu, è tu, te lo regalo No Vabbè però, broschi Ok, 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 let's go No Dove è finito Stuk Stuk No scusate raga però È troppo divertente Raga, appena escono fuori Stum Oddio, rimbalzato Stum Come ho usato Come ho usato Quel vile player Come hai usato Sfidarmi Dove sei O vile player Cari rosa Non avete capito Contro chi mi siete messi Uno che ha il bastone magico Esatto Raga, raga, raga Aspetta No Dobbiamo prenderli di lato però BAM No, dove è finito Ok, l'ha killato, l'ha killato Vai, 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 vai Oh, me ne vado Allora Allora Non ci sono meno troppo in fretta Ragiona Ragiona Perfetto Dobbiamo curarci Lorenzino Lorenzino Dobbiamo curarci Dobbiamo andare Stum Ragazzi mi sento sporco A giocare così Non lo fare Non lo... Eh vabbè è andato Vabbè io mangio E si va Ok, chi manca ora Lorenzino Oh, è cattivo Oh, è cattivo È andato Ciao Non so, lo sento, lo vedo Ok, eccolo Oh Mettene via Stuk No, bro, no 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 Bro, no No, no, no Ho detto no No, 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 no Via Eccellente Raga Dobbiamo fuggire di qua Dobbiamo farci prima un piccone No, l'ho missato Oh, ma l'antino Perfetto È sopravvisto Di tempo da bedrock Gli la facciamo vincere Guardate che succede adesso Ok, ok Ciurma Speed bridge Ma come l'hai detto distrutto? È arrivato già il giallo Dannato giallo Come osi Arrivo Amico mio Lo spacchiamo anche noi Non mi prendi Oh, manco io Se per questo Oh Ah No, è controllato Abbiamo capito che la speed Non è un'ottima scelta Eccellente Eccellente È partito Lorenz Hart Oh, è partito Guarda In panic Panic Zoom Arrivo Parto Arrivo Oh, è partito anche lui di nuovo Spacca, 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 spacca Spacca, spacca No, no, no Parto Vado Parto È morto La ridiamo La ridiamo La ridiamo Oh, no Yes In volo Lo prendiamo in volo Ah Sono morto lo stesso Sta andando anche lui Arrivo Vieni qua Vivi più in aria Mi ha ucciso Mi ha devastato Vamos Sei parte Sei parte Sì No, no, no Scendi Sono vivo Sono vivo Sono vivo Sono vivo Sono vivo Sono vivo Mi devi incastrare Sono a muoio Sono vivo Cioè, ormai so cosa fare Si parte Non lo toccare, bro Ce lo sta spaccando in letto Grande, bro No, 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 no Pazzo Non lo fare Ok Mettiamo Un cristallo Un cristallo qua sopra Non lo toccare Non lo toccare Ti prego Dai Compagno Aspetto Facciamo una cosa, raga Raga, se toccano Quel cristallo Si faranno tipo 50.000 blocchi di volo Lo sta shifstando al contrario Ti prego, Leona Ti prego, Leona Per favore Dagli un pugno A quel cristallo Viva la vita Ho scritto Ho fatto No Si è suicidato No Ok, 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 ok Ok Ragazzi Diamo la via di uscita Ok Perché ho scoppiato una fila così È il mio momento Voglio volare Sì Ci siamo Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Non ce l'accompagno Tieni Ma chi l'abbiamo Ha fatto flip E l'ha lanciato No Perfetto Ma ragazzi Ma sapete che il tridente Potremmo aggiungere Nelle bad wars Tipo come serie di kill Tipo qualcosa Raga Allora Allora Ho un'idea Regaliamo il tridente a qualcuno Regaliamo il tridente a qualcuno I verdi I verdi Prego Aspetta che qua funziona sempre Non lo so Vediamo se ci casca Vuole proteggere il cristallo No Non ci è riuscito Comunque Io direi di fare una cosa adesso Allora Il tridente l'abbiamo fatto La tridente l'abbiamo fatta Questa possiamo usare Ogni dà bellissima Perfetto E adesso Effect give Chi ho c'ho la Come si chiama ragazzi Blindness No Aspetta rifacciavolo Come volano Ha vinto lui GG Umaronna Umaronna Oh mio Dio Ok 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 È stata una Ok 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 Vai combattete in aria Combattete in aria Uo Ho ucciso tutti Ma è fortissimo GG Pstuk Ma è una cosa bellissima Uh Ok